I tempi sono stretti. Il 30 novembre scade il termine per l'inizio dei lavori di allungamento del molo settimo, assicurato per il giugno dello scorso anno. Si tratta di un obbligo contenuto nella concessione cinquantennale, siglata cinque anni fa dalla Trieste Marine Terminal, cui l'autorità portuale ora chiede conto dei mancati investimenti. TMT chiama in causa il coronavirus, ma il primo slittamento risale al maggio del 2019, dopo la scomparsa di Pierluigi Maneschi, presidente di Tio Delta, anche se il figlio di Maneschi Antonio aveva confermato gli impegni con Trieste, nonostante offerte importanti pervenute da Cina, Germania ed alcuni fondi di investimento. La vera ragione del rallentamento da parte di TMT potrebbe essere ricercata, secondo alcuni, nell'imminente ingresso del porto di Hamburgo in piattaforma logistica, con lo sviluppo del molo ottavo, che andrebbe a togliere a TMT il ruolo di monopolista del traffico container a Trieste. L'autorità portuale conferma l'avvio di un confronto con la concessionaria che prende le mosse dai margini concessi dal decreto rilancio, dove si parla delle agevolazioni nel campo delle concessioni portuali con possibilità di dilazioni dei termini nel nome dell'emergenza sanitaria. Ricorda come alla base delle trattative vi sia l'interesse pubblico. Parliamo, afferma Zeno di Agostino, di un operatore che comunque ha operato notevoli investimenti e sta facendo la propria parte sul fronte dei traffici e dell'occupazione. Investimenti che Trieste Marine Terminal conferma, pur in presenza, si legge in una nota, di una tendenza fisiologica al calo dei volumi e di uno scenario per il prossimo anno che il presidente Fabrizio Zerbini definisce imprevedibile stante l'incertezza sanitaria. Sono 48 milioni di euro che TMT ha in animo di investire per acquistare due gru e opzionarne altrettante per il rinforzo delle travi di banchine esistenti in modo da contenere il peso di nuove e più grandi attrezzature per il carico e lo scarico dei container.